Il Movimento 5 Stelle di Urbino ha finalmente rivelato volto e nome del suo candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative della città. È Emilia Forti, 41 anni, docente di scuola primaria, precaria, che si candida per il posto di primo cittadino ad Urbino. Anche per lei la domanda di Rito, perché candidarsi e perché lasciare che il Movimento la candidasse? Candidarsi perché penso che ognuno debba fare qualcosa per la propria città. Io mi sono sempre mossa nella mia vita pensando che quello che non andava bene, che non mi andava bene, dovessi essere io in prima persona a fare il primo passo per cambiare. Sì, il cambiamento che vuoi vedere, questo è un po' il motto che mi muove, che mi ha mosso sempre e che continua a muovermi. E quindi il Metap mi ha sostenuto, mi ha scelto e non è stata una scelta facile, perché io dall'essere nessuno camminando per strada so che domani le persone mi guarderanno e sapranno chi sono e mi giudicheranno e mi valuteranno in base a delle apparenze, non fa parte della mia personalità. Ma lo accetto in qualche modo di buon grado, perché penso che il Movimento può fare qualcosa di importante per la città e insieme ai cittadini. Che cosa allora vuole fare? Quali sono le priorità a cui ritenete di dover mettere mano subito? Le priorità a Urbino sono tantissime, talmente tante che sarebbe molto difficile adesso ridurle a poche cose. La priorità che siamo riusciti noi a individuare è proprio nella coesione sociale, in una popolazione che finalmente abbia voce in capitolo, perché Urbino ha una grossissima potenza che sta nelle persone, che ancora si associano e sono società civile impegnata, ma sono stati sempre inascoltati, sempre. E noi siamo nati con questa modalità qua e per questo motivo qua. pensiamo che già solo raccogliere, non i desideri, ma le proposte della popolazione, sia migliorare la città, perché è da lì che possiamo partire. Le persone informate, interessate, hanno già tantissime proposte interessanti. Ovviamente poi noi abbiamo le nostre tematiche sul turismo, sulla viabilità, sull'economia. Abbiamo un'idea di fondo che ci muove, però davvero in due parole è molto faticoso riassumerla. Avete già pronto il programma che illustrerete a breve alla cittadinanza, proprio per dimostrare anche questa volontà di coinvolgimento. Sì, mercoledì 12 marzo presenteremo il candidato sindaco, la lista e il nostro programma, ma non si esaurerà in una serata, vorremmo approfondire gli argomenti in serate tematiche e quindi anche durante queste serate raccogliere proprio le istanze della popolazione.